Grazie. Lì lì non è sbattuto niente, no no, sì quando è sbattuto ma non è sbattuto con la roccia. Dice che hai visto che hai visto la palla di fuoco, ma hai visto che l'aereo da qua è tutto da sparire. Non c'è buona Grazie a tutti. è girato dal lungo attenzio e io sono detto che è una lunga però dice che è girato capito? è girato 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 non lo è� 가 è girato è girato è girato è girato è girato non la torru 언� naturale sono girato un isolo è girato un isolo E' un'aerima militare, dopo non so, ma non è chiamata l'amica, è un'aerima militare. E' un'altra parte, in realtà, una avaria, ma siccome va oltre il... ...faccio il tutto bianco, non so, ma è molto bianco, perché va oltre il... ...a il da che si è da... ...quando va in avaria, gli aerei, è un'aerima militare, ma è bianco. ...dicino, dove la città è? ...dicino, è iniziale... ...dicino, che si è da parte l'ordine, ma non si è da parte l'ordine... ...dicino, a fine, che fa stare l'ordine, il faiu, e l'ordine l'ha abbattuto. E abbiamo abbattuto l'ordine, per andare sulla parte l'ordine, ma non si è da parte l'ordine. ...e perché portavo la stessa altenza. E quindi qua... ...a parte l'altenza perché dici che uno è questo da qua su e girato qua da qua... E qui sta da te io dritto poi in su, allora si è bruciato, tu con un tamponamento guarda, io ho un tamponamento io no, venire da un mare si è bruciato, e qui si è bruciato, e inizia a te io Guarda papà, lancia l'acqua, guarda papà, guarda adesso Non rispondere Non rispondere a chi? Non va a riprendere l'acqua, non ce l'ha più Ecco la mano, sta davanti a te Guarda mamma, è piccata, guarda Ciao, stati bene, un abbraccio Vale, salutami i tuoi Ciao, ciao Ciao Ciao